L'albero di Natale, Carlo, testimonia il periodo, per cui lo faccio sempre. Sono affezionato sia a un piccolo presepio che sta di là che all'albero di Natale. Sono cose che ti porti dietro da tradizioni familiari, quindi per me l'albero ci deve essere. A fine anno occorre fare un bilancio 2010 di Carlo Verdone come persona, di Carlo Verdone come artista e della Roma. Perché le tre cose, sai, noi siamo su Sky Sport 24, a noi interessa l'uomo, ma sempre con un riferimento sportivo. È più facile fare un bilancio di Carlo Verdone come artista. Sulla Roma è abbastanza complicato. Questo 2010 è stato sicuramente un anno molto importante, perché sono uscito con un film, Io l'Orellare, il 5 gennaio. Guardate che io il poliziotto non lo faccio. Questa no! Questa no! Ma una psicologa che molesta sessualmente un sacerdote, come fa a stabilire se la famiglia è idonea oppure no? Sorpresina! La Roma è la squadra delle occasioni mancate, i treni persi, l'ultimo valore. Ancora Castano che insiste, quello in sinistro, secondo palo, colpo di destra rete, il pali della Sampdoria, ha segnato Pazzini. Mannini punta pur disto, doppio passo di Mannini, palo sul sinistro, trastinare Pazzini, Pazzini! La Sampdoria in vantaggio! In questo momento la Roma non ha società, credo che sia come un regista che sta facendo il film e non ha un produttore, non ha una distribuzione forte. Mi pare che sono due anni che stiamo così, secondo me l'altro anno è stato fatto un miracolo. Inter-Bayern, come la finale dello scorso anno, la Roma contro lo Shakhtar, che Carlo tra, voglio dire, meglio di così, ti ho portato bene. Di la verità che Skyport 24 ti ha portato bene. Forse ti ho portato bene, ho portato bene pure io i romanisti, dai, abbiamo parlato da Roma. Sì, sono tutte squadre forti, intendiamoci, non sottovalutare la... Però, francamente, a trovarmi il Barcellona, a trovarmi lo Shakhtar o Tottenham, ti dico... Oh, voi Chelsea... Ma, insomma, diciamo che ci è andata bene sulla carta, anche se ogni partita qua è difficilissimo. Però lo Shakhtar, Carlo, cioè meglio di quella tra le prime arrivate nel Girole, te lo dico, eh? Posso dire una parola, finalmente un proprio futuro alla Roma, ma pochino, va, pochino. Sei del partito di quelli che totti sempre e comunque, oppure lo devi disciplinare, lo devi centellinare? Io non mi posso mettere a fare allenatore, perché non lo so, francamente. Io dico che è un giocatore che ancora può dare molto, può dare molto. Poi, insomma, ci sono giocatori che possono dare anche loro il loro grosso apporto, anche entrando nel secondo tempo, proprio di Del Piero. Spesso e volentieri è risolutivo, anche entrando nel secondo. Non è un'onta, non è un'onta. Chiedo a Carlo Verdone un giudizio su Francesco Totti, possibile attore. Dal punto di vista televisivo potrebbe essere molto fattibile, perché lei è brava e lui sta migliorando sempre di più. Quindi si sta sciogliendo, sta vincendo con la dividezza. Maggio 2011, sarai contento se la Roma? Arriva a 6 quarta, arriva a 6 quarta. Non è che noi possiamo puntare lo Scudetto, adesso non diciamo fregnaccia. Perché poi qua c'è anche certa stampa che combina dei disastri. Bastano tre vittorie di seguito, una per una a zero, una per un rigore, un'altra per due rigore e un gol di un difensore. Scudetto, ecco, quella è la cosa peggiore che tu puoi fare alla squadra. No Scudetto, umiltà. Umiltà è andare avanti, magari si punta almeno a un quarto posto. Poi se arriva il terzo siamo tutti felici, se arriva il secondo siamo ancora più felici. Arriva il primo mese ma è molto complicato, cerchiamo di essere molto pragmatici. 15 febbraio, quando ricomincia la Champions, più o meno a metà febbraio, la Roma si recupera tutti, si recupera Totti con Borriello al massimo. Potrebbe diventare la mina vagante di questa Champions, potrebbe venire fuori... Guarda, tu hai citato questi giocatori, sì, se Totti torna sicuramente, ma se esplode Meners. Auguri a tutti e a presto.